Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video! Ogni tanto si torna alle origini e quindi spacchettamento lucchiero! Come sempre prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per non perdere tutti i prossimi video. Seguitemi anche sugli altri social Instagram e TikTok. Avete tutti i miei riferimenti qui sotto in infobox. Come vedete ho la box qui dietro alle mie spalle. Mi è arrivato qualche giorno fa uno sconto di 15 euro da lucchiero e quindi ne ho approfittato. Adesso andiamo ad aprire la box insieme. La pigrizia incombe su di me. Eccola qua! Questo è il momento più gioioso l'arrivo della scatola. Allora... Voi non lo sapete ma quando arriva la scatola, Paola, freme e dice non vedo l'ora di aprire. E quindi siccome è arrivata ieri è stata tutta la notte in predito per aprire la scatola. Io resisto per voi, per avere questa gioia di aprirlo insieme. Però faccio una fatica, una fatica. Siamo già alla decima box di lucchiero. Che poi ancora prima di aprire il canale io già prendevo lucchiero. Se non sbaglio è stato proprio l'incentivo, giusto? Cioè è lucchiero che ti ha fatto... È vero, mi era arrivata la scatola di lucchiero e ho detto ma sì dai facciamo un video così. Condividiamo questa esperienza. Si sta facendo desiderare qua la signora. Questa volta nei commenti ho scritto alla personal shopper di mettermi dei colori un po' della terra diciamo beige, marrone, verdone... Questi colori qua. Tutti o ne o ne. Tutti i colori che fanno rima con o ne. Ho detto insomma tutti questi colori e quindi spero abbia esaudito i miei desideri. Andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Ho aperto la box. Ok, solita letterina. Questa è la letterina della personal shopper che andrò a leggere dopo. Questo è il fogliettino con tutti i prezzi e questo è il volantino dove dice che riceverò un credito di 10 euro per ogni amica che porterò il lucchiero. E anche lei a sua volta avrà un credito di 10 euro. Quindi se volete provare vi lascio qui il codice qui sotto al video e in info box. Questi invece sono tutti gli outfit che mandano. Ve li faccio vedere a voi e non li guardo. Ok? E adesso andiamo ad aprire il primo pacchettino. Spoilero che non ti ha scontato un pochissimo. Sì? Ma guardi le cose che mi ha mandato o guardi tutto l'outfit in generale. No no aspetta aspetta. Allora le cose che sono qua non capisco perché non lo fanno. Io una volta ho provato a dirlo. Non mettono i veri colori che ci sono dentro ai pacchetti. Ah ecco ecco. Mettono l'outfit con quel capo d'abbigliamento ma non lo mettono nel colore in cui l'hanno inviato. Magari non l'hanno fotografato. Peccato perché come combinazione di colori potrebbero dare dei consigli. Invece non lo fanno. Non so perché. Ecco infatti ho chiesto un blazer. Ecco i blazer li chiedo perché li adoro. Sono bellissimi. Rendono un outfit molto semplice e un po' più particolare. Sono comodi e danno un po' di eleganza. Ah infatti nella brochure qua è blu. Qua è blu. Sì sì infatti fanno fanno così. Allora mi hanno dato questo blazer che ce l'ho già in versione blu di Ichi. E sono contenta perché mi piace tantissimo. Lo uso veramente tanto. Il tessuto è morbido ed è di questo verdone scuro. Kaki. Taglia XS. Ha le spalline morbide e quindi mi piace. Perfetto. Questo so già che lo tengo. Ma scusa quello lì che colore hai detto che è? Kaki. Ora iniziamo coi colori. Ma il kaki non è sull'arancione scusa. Kaki. No è questo verdone qua. Vabbè io in quanto uomo conosco 16 colori. Carina questa. Guarda che carina questa. Col pizzetto. Che carina carina. Bella. Questa mi piace un sacco. Taglia XS della Morgan. Ci sta bene anche sotto. Sì. Bianca con un po' di pizzo qui. Molto carina. Mi piace tanto. Questo è proprio il mio stile. Ok questo era il primo pacchetto con i due capi. Ora ci dovrebbe essere il secondo con tre capi. C'è anche qui una specie di stemmino dorato dove riporta la marca. Voglio vedere un attimo il tessuto di questa così per curiosità. 78% viscosa. Per fatto che a me la viscosa piace. A me piace tantissimo. Ok poi apriamo l'altro pacchettino. Cosa abbiamo? Carino questo. Questo direi che è un colore della terra. Un beige. Questo è un beige. È un beige taglia XS. Marca Soia Concept. Mai sentita? Comunque è bello morbido. Morbidissimo. Proprio un tessuto bello. Brava Elena. Elena ci azzecca sempre. È da tantissimo che ce l'ho e mi piace tanto proprio come personal shopper. Poi abbiamo... Ormai hai imparato a conoscerti. Sì. Molto. Devo dire che ascolta tanto. Quindi ve la consiglio come personal shopper. Se volete cambiare lei è molto brava. Sarebbe figo fare un video con Elena qui presente. Elena ti invitiamo. Vieni a fare con me il video. Allora un'altra gonna. Wow. Io amo le gonne. Gonna lunga. È un po' stile anche questa WQ che mi ricorda quella di Lucchiero precedente. Però in tonalità verde. Bello. Mi piace. Ha i lacetti qui davanti che si può selingere un po'. Ha le balze. Per metà gamba è coperta dalla foderina. E poi rimane solo il velo. Questa è nella taglia S perché adesso di sotto vesto la S. E niente. Questa mi piace tantissimo. Anche questa la tengo. Lo so già perché mi piace. Io appena vedo una gonna lunga. Impazzisco. E poi abbiamo l'ultimo capo. Vediamo che cos'è. Anche questo. Gli ho chiesto questo colore precisamente. E questo è un colore della terra. Sì. Questo è un colore. Ve lo dico. È un colore sì. Lo sappiamo. Brown. Semplicemente brown. Cioè marrone? Sì. Vuol dire che è marrone e basta? Secondo me. Eh sì. Dai. Un po' ruggine lo è. Allora. Sono dei leggings. Così vengono chiamati. Bello. Questo colore mi piace tantissimo. Non vedo l'ora di provarli. Spero che mi stiano bene. Sono taglia S. Marca. Tom Taylor. Ok. Ve li faccio vedere un po' così. Tanto adesso sapete benissimo che ve li faccio vedere indossati. Leggo anche la letterina di consigli. Allora. Ciao Paola. Elena intrapreso. Nuovo percorso professionale. Da oggi sarò io Alessia. Alla nuova. La tua nuova persona. Cosa? No vabbè. Io consiglio Elena. Viva Elena. Elena vieni a fare un video con noi. Allora invito Alessia a fare un video con noi. Elena ha cambiato. No. Una nuova personal shopper. Niente. Che figuraccia. Elena. Sì. Ho fatto una pessima figuraccia. Elena è stato un piacere averti avuto con me in questo cammino. Benvenuta Alessia. Benvenuta Alessia. Ok. Spero che allora Alessia non mi deluda. Per ora devo dire che se l'ha fatto a lei complimenti Alessia. Perfetto. Allora adesso andiamo a provare i capi. Come primo outfit Alessia mi propone questo legging marrone di Tom Taylor. Legging? Legging. Si dice legging? C'è scritto legging. Legging ok. Che potrai abbinare alla t-shirt in pizzo bianco. Che è questa qui. Ora poi ve la faccio vedere meglio. E blazer verde khaki dici. Che è questo qua. Io già non avrei mai messo questi due colori insieme. Però devo dire che mi piacciono messi insieme. Questo penso che sia un po' il potere di Lucchiero. E chi sembri? Chi? Sentiamo. Luca Bete. Quello di scritta Alessia. E da Luca Bete è tutto. Ma per i colori? Eh sì. Ora non me lo voglio più mettere. No dai no. Bene allora vi faccio vedere la maglietta bianca. La maglietta bianca è trasparente. Si vede un po' tutto. Quindi pensavo poi di metterla magari con una canotta sotto. Vediamo. Comunque se si mette il blazer. Si lascia così. Questa parte non si vede. Il secondo outfit che mi ha detto da abbinare è la gonna. Questa qua di indie più moi. Si chiama così. Molto bella. Mi piace tantissimo. E questo cardigan beige. Che è di una morbidezza pazzesca. Ora sotto ho lasciato la magliettina quella bianca. Ma anche se non mi aveva detto di abbinarla. Vabbè l'ho lasciata. Poi magari metterò qualcos'altro. Però devo dire che mi piacciono tutte e due le cose. Magari non credo di metterle insieme. Perché l'abbinamento non mi piace molto. Però mi piacciono i capi singoli. Vi faccio un giro e vi faccio vedere come sono. Eccoci ragazzi il video termina qui. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti di questi capi che mi sono arrivati. Mettete un like se vi è piaciuto questo video. Cliccate qui per iscrivervi al canale. E noi come sempre ci vediamo alla prossima. Ciao!